Buongiorno a tutti, bentornati alla nuova puntata dell'incursore. Questa settimana ci sarà solo lunedì, ma la prossima confermo due puntate, anche se siamo vicini a Pasqua e quindi è opportuno vedersi anche per i saluti di Pasqua. Come sempre, attendo che compaia qui sulla pagina del Popolo della Famiglia la diretta, in modo tale da poterla condividere immediatamente, non appena compare anche sulla mia pagina. Eccola qua che è arrivata, quindi faccio un bel condividi. Condividi dove? Condividi sulla pagina, sul tuo diario. Ecco la diretta dell'incursore. Così ci siamo, vai e poi posso chiudere il computer che dà un minimo di disturbo al tutto. Come sempre chiedo aiuto ai primi che compaiono. Vedo che ci sono già collegate sei persone e ci sono un bel po' di thumbs up, di mi piace, che quindi deduco, interpreto come si sente tutto bene, si sente forte e chiaro. Quindi vi ringrazio, ringrazio per ricordare Carmela, chiedo scusa che per prima ha scritto buon dì, e Mario che compare in questo momento. Non so, ogni tanto mi fanno vedere che compare, ogni tanto no. Secondo me c'è qualche raccomandato che vuol far vedere che è in diretta. Di cosa parliamo oggi? C'è scritto la bellezza della gentilezza. Ecco, io rimango stupito nel vedere i titoli dei giornali quando sottolineano come siamo in un mondo complicato, un mondo pieno di cattiveria, un mondo in cui non c'è più pietà. Mi rifaccio in modo particolare. Beh, meglio della Rai ci vuole poco Mario, eh. Mario scrive, perfetto, meglio della Rai, devo dire ci vuole poco, ci vuole molto poco. Anzi, proprio ieri c'è stata una rissa durante uno dei programmi Rai di Barbara D'Urso, non ho assistito in diretta la rissa perché la televisione non la guardo praticamente mai, anzi, non so se essere più ammirato o più turbato da coloro che continuamente postano su vari gruppi tutti i commenti per le Iene, per tutta questa serie di talk di Bassa Lega che imperversano per i nostri canali. Io personalmente sono convinto che la televisione abbia fatto il suo tempo. Io fondamentalmente che cosa guardo in televisione? Le partite. Confesso di essere addicted, come dire, dipendente dal calcio, non troppo per la verità, però comunque guardo le partite in televisione e altrimenti seguo i serial tv, soprattutto quelli gialli. Adesso c'è uno nuovo bellissimo che si chiama Bull, mi sembra che lo facciano su Rai2, non ricordo il canale ma ricordo benissimo, e parla di come gestire, lavorare sulle giurie dei processi per poter avere impatto. Secondo me ci sarebbe molto da comprendere dal punto di vista psicologico per ragionare su come anche magari cercare di avere impatto sulle persone in rete o altro, ovviamente stando al di qua del confine della manipolazione. A proposito vi segnalo le bellissime storie di giustizia che pubblica il mio amico Lucio Bon Giovanni, che sponsorizzo caldamente e vi chiedo, vi chiedo proprio, vi invito a sponsorizzarle anche voi, perché ci aiutano a capire come funziona la verità, la legge e la giustizia oggi. E io credo che per chi si vuole impegnare in politica, perché si vuole impegnare anche nel cambiamento culturale, siano molto molto interessanti comprendere quello che Lucio spiega nei meccanismi e aiutarci a capire realmente come lavora la giustizia e la legge, come si incastrano con la verità. Quindi ve le suggerisco spassionatamente, le trovate sulla sua pagina Facebook Storie di Giustizia, Curio Channel, bravo, bravo Mario, sul sito storiedigiustizia.it oppure su iTunes e Spreaker come Storie di Giustizia. Vi chiedo di ascoltarle, vi chiedo di diffonderle. Torniamo al punto di partenza, parlavamo di televisione, parlavamo di risse, parlavamo di mancanza di pietà. Prima pagina del Corriere oggi si parla di questo omicidio commesso in un bar, dove il killer viene descritto dalla moglie della vittima come un uomo senza pietà, occhi che non esprimevano la pietà. Ecco, atteniamoci ai fatti, si dice occhi che non avevano pietà. E poi appunto sfogli il resto del giornale e ti dici, vabbè ma perché, cosa c'è di strano? Siamo una cultura intrisa di rissa, siamo una cultura intrisa di odio, che oscilla tra due estremi pateticamente, pateticamente, lo ripeto, contraddittori. Da un lato la cultura dell'amiamo tutti indistintamente, che quindi vuole far credere che qualunque posizione è accettabile, siamo tutti buoni, l'odio non esiste, dall'altro si confonde il dissenso con l'odio. Quindi se io non la penso come te, ti odio, sono un portatore di odio. E poi ci sono questi giochi che secondo me sarebbero divertenti se non fossero tragicamente reali, tragicamente reali. Potremmo sintetizzare con quella battuta tutti coloro che sono contro la pace, che sono contro l'amore fra tutti, tutti coloro che si oppongono con violenza a questo senso di amore che noi abbiamo e che esprimiamo, io li ammazzerei tutti. Ecco, questo è un po' un gioco di parole, ma alla fine lo vedi. Vedevo stamattina un post di un... non so come definirlo. Mi limito a commentare il post di una persona che evidentemente è un po' confusa, che scriveva io amo tutti, però quando muore un cacciatore sono contento, perché un cacciatore che uccide i poveri animali, che nella vita non fa altro che uccidere i poveri animali, merita la morte. Ecco, allora siamo veramente arrivati a questa incapacità di comprendere il significato di quello che diciamo, ed è gravissimo. Siamo arrivati in una città che propaga l'odio senza rendersene conto e poi ci lamentiamo se ci sono i killer senza pietà, che peraltro potrebbe essere anche una caratteristica del loro mestiere. Se uno fa il ladro, il killer, è senza pietà by definition. Non ci sono più i ladri gentiluomini, non siamo più nel mondo di Arsenio Lupin, non siamo più anche nel mondo raccontato magari da Totò, dal neorealismo italiano, ladri di biciclette, dove qualcuno rubava spinto dalla necessità, viene rubata la bicicletta, si rifà rubando un'altra bicicletta. Non è più quel mondo lì, non è più quel mondo lì. Non è una questione di etnie, qui non facciamo una questione di razzismo, è una questione di, come scrive, Cinzia Gioia, di cultura intrisa di rissa. Peraltro i canali televisivi l'hanno alimentata per tempo, per anni. si facevano vanto di avere delle situazioni di rissa. Tutti i canali televisivi funzionano se c'è la rissa. Se c'è la rissa siamo tutti contenti, se non c'è la rissa non siamo contenti, non c'è audience. E allora questo clima di rissa non puoi poi non vederlo calato nella società. Non puoi non avere come cifra quello della rissa. Quindi, da un lato, come sempre, nelle mie incursioni, partiamo dalla constatazione di un problema, cerchiamo di capire qual è la sua causa. Quindi in questo caso il problema è la violenza della nostra società. C'era un articolo la scorsa settimana che diceva che l'Italia è in testa nel paese, tra i paesi, come per il massimo della maleducazione. Dalla maleducazione stradale ad altro. Ecco, ieri ho corso la staffetta dalla maratona e che la maratona non riesco ancora a farla, ma ci provo, ci voglio provare a fare una maratona. Ho degli amici che partecipano nella nostra stessa impegno che sono maratonetti e sto seguendo il loro esempio, anzi forse vorrei farmi aiutare da loro per poter una volta riuscire a correre una maratona perché ho un'esperienza che deve essere importante. Ma, torniamo al dunque, gli autisti imbufaliti, alcuni, pochi per la verità, sempre meno, e questo è interessante per una città come Milano, imbufaliti perché il traffico era bloccato. Urlare. Allora, siamo il popolo della maleducazione. Siamo il popolo che non sa se non fare risse, non sa se non indulgere con cattiveria a quello che fanno gli altri. Quindi presume di essere portatore di amore, ma in realtà è portatore di odio. Dicevo questa situazione duplice. Da un lato voglio portare amore, in realtà porto odio. Dall'altro tutti coloro che non la pensano con me sono portatori di odio. E non è vero. Allora, questa è la parte destruens, quindi abbiamo identificato il problema, ne abbiamo capito la causa. La causa è la mancanza di ragionamento su quello che si fa e si dice, l'egoismo, l'ego-referenzialità, quello che faccio io è giusto, quello che fanno gli altri è sbagliato, la cura, la bellezza della gentilezza, distruggere l'odio con il bene. Quindi mi rifaccio a un santo che mi è particolarmente caro, che diceva sovrabbondare con il bene, sommergere con il bene il male, ma lo dice anche la scrittura di per sé, il fatto che dica dove c'era il male, ora sovrapponde il bene. Dobbiamo fare questo. Allora, io credo che l'impegno che noi possiamo metterci politicamente e personalmente, sapete che i piani sono sempre due, c'è il piano dell'istituzione, il piano politico nel quale mi interesso poco, Vittoria Polacci ci ricorda che le parole sono importanti, bellissima la famosa scena di Palombella Rossa con Anni Moretti che proprio parte da questa affermazione. Grazie Vittoria. Dicevo, da un lato il piano istituzionale che mi vede un po' fuori gioco da questo punto di vista, so che c'è stato un bellissimo incontro a Milano sabato che ha parlato proprio di questo, so che Emanuela, la nostra carissima Pongi, si sta impegnando molto su questo, che sta facendo molto qui al Nord e quindi affido a lei questo compito, passo a lei la mano su questo, perché sicuramente lei e le persone che stanno collaborando con lei sta facendo molto dal punto di vista istituzionale per tutto quello che è il programma del Popolo della Famiglia e la sua presenza, io mi limito a operare nel mio intorno, nel mio cortile, nel mio ufficio, uso queste come immagini per raccontare un mondo piccolino, un piccolo mondo moderno, potremmo dire, parafrasando Guareschi, piccolo mondo moderno, nel quale viviamo tutti i giorni. Ecco, cercare, anche la rete è questa, anche la rete qui, i suggerimenti anti-troll di Bruno Mastroianni sono questi, ecco io non credo più, onestamente non credo più, che la risposta aggressiva, ringhiosa, sia la strada giusta per propagandare, per propalare una cultura dell'amore, una cultura che qui, ripeto, non vuole essere peace and love, non è siamo tutti buoni, quindi amiamoci, amiamo i fiori, amiamo gli animali, amiamo le stelle, no, la cultura di una relazione interpersonale che sia basata sull'accettazione, sull'amore, sulla volontà di crescere insieme, che credo sia all'essenza della famiglia e quindi a maggior ragione del popolo della famiglia, se noi vogliamo fare questo. Faccio molta fatica oramai a credere che anche in rete la strada migliore sia quella del ringhio e che non vuol dire affermare la verità, e attenzione, non è lo sguainare le spade come ci dice Chesterton per dimostrare la verità. Vuol dire quella del ringhio, dell'offesa, dello scendere sullo stesso piano, del mostrare lo stesso dito che non è l'indice che indica la strada, ma è il medio che indica qualcos'altro. Abbiamo bisogno di trovare una strada che sia quella... adesso Alessandra e Emanuela si scherniscono, voglio dire, chiaro che probabilmente ci sono altre figure importanti che vanno messe in gioco. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha i suoi carismi, ognuno ha le sue competenze, ognuno ha i suoi percorsi e compiti. Io vedo che bando alle ciance, bando soprattutto a una falsa modestia che apprezzo, ma che non vale questo, che Emanuela ha molta più competenza organizzativa e capacità di aggredire in modo positivo, di mordere sui punti forti. Io non ce l'ho, io non ce l'ho, io sono espressivo, sono magari capace di stare davanti a una telecamera, però poi alla fine sono meno capace di gestire in modo direttivo, assertivo una truppa che porti la strada, che faccia la strada giusta. Quindi riconosco i miei limiti e affido ad altri questi compiti. Io credo che il talento che posso mettere a disposizione del talento quindi che è ricevuto, che è un dono e non è mio, è quello della visione razionale, della visione lucida nell'invito ma di quello che sto facendo qui nel mio piccolo, 11 persone in diretta, 12 in questo momento non stiamo parlando a folle oceaniche, non stiamo parlando a milioni di persone da un palco o da un balcone. Il cortile, come dicevo prima, il piccolo cortile, il bar, la macchetta del caffè dell'ufficio dove mettersi di fianco, stare vicini e raccontare qualcosa. Quindi essere capaci a cuore, a cuore, guardandosi negli occhi di cambiare una persona alla volta. Ho un amico, Fabrizio Guidi, psicologo di Genova, che si occupa di psicologia nell'età da 0 a 5 anni e che dice cambiare la società, cambiare la città, cambiare il mondo, un bambino alla volta. Bellissimo programma, aiutare le famiglie a capire come educare i figli. Bellissimo programma. Ecco, io credo che ognuno di noi debba trovarsi questi, 12 persone, usiamo numeri evocativi, per aiutarli a vedere le situazioni, non soltanto affermando alcuni principi e valori in rete, ma mettendosi di buzzo buono, dedicando del tempo per stare con le persone, per stare a fianco a loro, raccontargli tutto, con gentilezza, perché l'astio si spegne con la gentilezza, l'astio si spegne con il sorriso, l'astio si spegne con l'ascolto, l'astio si spegne affermando la verità, passando però attraverso il cuore, come mi ha insegnato questo santo di riferimento che è San Cosimaria de Balaguer, che io stimo e apprezzo molto, e quindi San Cosimaria scrivato a Balaguer chiedo scusa, adesso mi sono un attimo confuso e perso vedendo il commento di Emanuela, ecco, io credo che sia questo il percorso da seguire, quindi soffocare, soffocare nel senso buono, soffocare il male, soffocare con la gentilezza, quindi far capire che non è urlando che si ottiene di più, non è urlando che si ottengono dei risultati, ma è, non è ringhiando, non è becerando, perché comunque sono dei risultati sul breve, si ha l'impressione di ottenere tutto, si ha l'impressione che la rissa ottenga qualcosa, ma alla fine se noi abbiamo presente che quello che facciamo oramai ha una dimensione ampia, una dimensione larga, non è soltanto una questione frammete, soprattutto se questa roba accade in rete, ma è frammete e coloro che ci osservano intorno, coloro che magari non intervengono, non parlano, ma ascoltano. Di nuovo quel telefilm che vi dicevo all'inizio fa vedere come nella giuria l'ascolto, l'interpretazione sia diventi fondamentale per il risultato finale. Io penso che dobbiamo ragionare in questi termini, se vogliamo cambiare la società. Come sapete Facebook ripropone cosa ti è accaduto in questo giorno un anno fa, erano i giorni in cui ci stavamo impegnando fortemente per le elezioni a Milano, erano i giorni in cui comparivano interventi quotidiani sui punti del programma del Popolo e della Famiglia A, B, C, D, ecco oggi mi è ricomparsa la P di persona dobbiamo mettere la persona al centro se noi non mettiamo la persona al centro non otteniamo niente se noi pensiamo ad avere davanti degli elettori davanti una società davanti degli avversari dei nemici dei nemici non otterremo niente. Io credo fortemente che debba prevalere questo elemento di accoglienza proprio perché è proprio del cortile del bar come dicevo dell'oratorio dei piccoli passaggi piccoli ma cresceremo piccoli passi uno alla volta e cresceremo come hanno dimostrato i risultati ottenuti in quest'anno allora la chiusura di oggi è su questa programma d'azione perché poi abbiamo detto evidenziamo il problema metodo di lavoro evidenziamo il problema cerchiamo di capire le cause problema con le conseguenze cerchiamo di capire le cause cerchiamo di capire come fare a intervenire per risolverlo da un punto di vista teorico e poi il compito a casa compito a casa che cosa posso fare che cosa posso fare in che modo io posso dimostrare gentilezza e accoglienza alle persone che sono intorno a me in che modo io posso dimostrare che attraverso la mia azione posso cambiare la società un granello alla volta un passo alla volta una persona al giorno conquistandola con il sorriso conquistandola con la gentilezza dell'ascolto che non prescinde ripeto dalla fermezza non fatemi passare per buonista ma che vuol dire essere capaci di prendere sotto braccio le persone e senza essere irritati ecco forse lo sforzo più grande che possiamo fare il primo compito è questo se avete dei suggerimenti sono graditissimi perché ognuno di noi deve crescere e migliorare e io se fessi la pretesa di essere qui a insegnarvi come si fanno le cose di cui parlo sarei falso sarebbe vanna marketing sarebbe manipolazione tentativo di manipolazione circonvenzione non di incapaci perché non lo siete ma circonvenzione di pubblico io sono qui per avere degli spunti da condividere con voi e con voi trovare le soluzioni allora primo punto riuscire a vincere la nostra irritazione a volte veramente ti fanno passare ti fanno perdere la pazienza certe cose ma perché? perché siamo noi a non essere così quando siamo stati dal Papa settimana scorsa dicevo poi in un caffè che è dato in onda il giorno dopo la prima impressione nel vedere le persone che ti circondano è di irritazione perché non fanno quello che tu vuoi ma non perché siano irritanti loro perché ti irrita quello che non vorresti fare cioè vorrei che adesso lui facesse così che non dicesse quella battuta che non facesse quella roba là che smettesse di chiedere ma perché? ma perché dà fastidio a me perché sono io l'irritabile sono io l'irritato quindi il problema è mio il problema non è degli altri il problema è mio Vittoria grazie che mi stai dicendo della poesia di Maria Teresa pubblicala qui sotto per favore riproposila anche qui in modo tale che tutti coloro che hanno assistito questa diretta possano approfittare di quello che tu hai scritto e messo in considerazione in condivisione oggi facciamolo allora chiudo la mia diretta per rimanere anche all'interno dei tempi l'incursione sapete è breve per evitare di sembrare perché poi sembrano quelle omelie che durano tantissimo il Papa sabato a Milano ci ha detto tre punti chiari è stato in un quarto d'ora preciso e ha scritto all'interno di una sua enciclica una bellissima lezione su come si tengono questi discorsi quindi non voglio dilagarmi oltre dilagare e dilungarmi oltre quindi vi ricordo storiedigiustizia.it andatelo a vedere e propagatelo propagandatelo fatelo conoscere a tutti perché vale la pena condividetelo ve lo do come compito due se abbiamo qualcosa che possa aiutare a migliorare la nostra giustizia scrivetelo qui sotto e diamoci da fare tre cerchiamo di non farci irritare dagli altri cerchiamo di costruire attraverso il sorriso tutto questo quattro avvisi per le prossime puntate domani non ci sono sono in aula a Bergamo per una lezione quindi non riesco a collegarmi settimana prossima ci sono sicuramente due volte sia lunedì che martedì grazie all'impegno della redazione abbiamo stabilito che se non riesco ad andare in diretta registro i miei 10 minuti un quarto d'ora li passo a loro che li trasmetteranno non ci saranno i commenti in diretta non potrò rispondere ai commenti in diretta ma sicuramente sarà un'occasione comunque per dialogare vi saluto vi auguro una buona settimana dal televisione del popolo della famiglia e da Paolo Pugni una buona giornata a tutti una buona giornata a coloro che si sono collegati o che si collegheranno in futuro un ringraziamento a Vittoria che proverà a mettere la sua poesia qui sotto un ringraziamento alla redazione e arrivederci alla prossima settimana ciao